Cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività per i circa 80 dipendenti dell'ATR di Colonnella, che ricordiamo in procedura di fallimento dopo la sentenza del Tribunale di Teramo. Questo è quanto emerso dall'incontro convocato dall'assessore delle politiche del lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, con i curatori fallimentari e i rappresentanti sindacali. Abbiamo fatto questo incontro in Regioni con le parti sindacali e i commissari nominati dal giudice fallimentare. La situazione è abbastanza complessa, però su nostra sollecitazione i commissari attiveranno la Cassa integrazione straordinaria, perché fine giugno scade quella Covid, quindi riusciamo a garantire un altro anno di Cassa agli 80 lavoratori. In questo modo prendiamo anche tempo per cercare di trovare una soluzione, ovvero un eventuale imprenditore che possa rilevare all'azienda. Questo è un po' il punto che abbiamo fatto ieri. Convocherò un altro tavolo la prossima settimana coinvolgendo Confindustria. E più farò richiesta al Mise affinché appunto si apre un tavolo, affinché anche nel Mise ci possa aiutare a trovare un imprenditore. Un'azienda molto importante per il suo know-how. Ci sono imprenditori nazionali che sono interessati? Sì, io ho qualche contatto, ce l'ho. L'unico problema, l'unica criticità è che la strumentazione, passando il tempo, si sta un po' rovinando. Questo forse è un ostacolo per chi vuole investire, però logicamente da parte mia, con l'aiuto delle altre istituzioni, metterò il massimo impegno per cercare di trovare una soluzione a questi lavoratori che sicuramente vanno tutelati. A stretto giro il prossimo passaggio quale sarà? Ripeto, come ho detto, voglio convocare Confindustria per fare un primo step per capire se sul territorio ci sono aziende che possano rilevare l'ATR. La Regione farà la sua parte, da parte mia c'è il massimo impegno come assessore politica e lavoro, cercheremo il più possibile di trovare una soluzione. La Regione farà la sua parte, da parte mia c'è il massimo impegno per cercare di trovare una soluzione. La Regione farà la sua parte, da parte mia c'è il massimo impegno per cercare di trovare una soluzione. Grazie. Grazie.